Chiede sicuramente un impegno forte da parte di tutti noi che siamo ad essi chiamati, ognuno per la propria parte, perché è un territorio che merita attenzione e rispetto. Se emergono fatti, non abbiamo dati oggettivi che parlano di problemi come pizza o solo del genere, l'invito che io faccio, se qualcuno ha qualcosa da dire, che lo dica come ritiene, ma lo dica, perché questi fenomeni non si possono contrastare se non c'è la collaborazione da parte della vittima. Noi finora non abbiamo avuto nessuna vittima che ha chiesto collaborazione, quindi se ci sono delle vittime che lamentano e sicuramente hanno lamentato, perché se no non sarebbe emerso questo, se hanno qualcosa da dire, che lo venga da dire, perché noi siamo lì a posto per lavorare e per aiutarli, ma che vengano. Quindi chiediamo ai cittadini genovesi di parlare, di parlare, di parlare.